questa di mettere uno striscione davanti alla sede del Partito Democratico con molta tranquillità quindi metteremo questo striscione lì davanti perché il Partito Democratico di Matteo Renzi è irresponsabile delle politiche di austerità, delle politiche di impoverimento dei lavoratori, degli studenti, di tutte le classi più deboli del nostro paese un atto simbolico, un gesto molto tranquillo quindi stiamo tutti calmi e mettiamo questo striscione davanti senza paura perché il Partito Democratico è il nostro nemico, è il nemico degli studenti è quello che insieme ai governi dell'Unione Europea ci impoverisce, fa il patto di stabilità e lo mette in Costituzione e questo il 27 novembre faremo un grande posto a Roma forse le politiche del governo per dire no al referendum e a tutte le sue politiche di locale Matteo Ricci non è una persona a caso, non è che non vale niente dentro il Partito Democratico è il vice segretario, è il vice segretario e qua le sue politiche cosa sono? Sono eventi ci parla di indice della felicità non di PIL, questa è la provincia felice, questa è la provincia dove sono stati istanzati con i voucher sono stati spesi 9 milioni di euro in voucher, solo va, la gente lavora solo a voucher e c'è tantissimo nero, si dice che dobbiamo portare avanti e deve crescere il mercato del turismo quando nel mercato del turismo noi veniamo sfruttati per 9-10 ore al giorno con un contatto